E' un piccolino, questo è un nonnino di 16 anni. Lui è nato nel 2003, nel lontanissimo 2003, peserà una decina di chili, forse anche lui. Ciao a zia, ciao, benvenuto, benvenuto, ma quando sei l'amore tu? Ma ma che carino, è proprio minuscolo, ma povero piccolino, piccolino, ma che c'è? C'è tutta la barba bianca, ma che c'è? Cazzo, come stiamo in un po' di questo? Eh sì. E dobbiamo trovare un nome? Nonno? Nonno Nanni. Nonno Nanni ti chiamiamo a te. C'è l'osso tutto screvolato, guarda qui. Un bambino. Le orecchie piccole, c'è anche le cigliette, guarda. Bianche. Bianche. Mamma Nanni. Un bambino. Un bambino roccio. Guarda, se riesci a metterlo un poco poco più qua, così non c'è la... Allora, pure in braccio si può prendere, guarda. Chiaretta, vieni anche di qua, guarda. Eccola qua. Nonno Nanni. Sì? Le cose buone, aspetta. Un po' di difficoltà. Claudietta, provo a dargli qualcosa di buono. Aspetta perché se ne... Un po' con dentro e con dentro. Vedi se c'è i denti per masticare, perché poi... Sennò prendiamo i gusti. Sennò prendiamo i gusti, la prova. Mettigli prima il fiocchettino. La dentiera della nonna. La dentiera. Una volta scoprimo un cane in casa. Chiara, scoprimo un cane che non aveva i denti. Ti ricordi? Non è l'edicchio. Che mangiava le crocchette lo stesso. Amore, come sei bello col fiocco. Vediamo se lo mangia. Che cos'è di buono? Che cos'è? Saporito. C'è l'edicchio? C'è l'edicchio? C'è l'edicchio? L'ho visto? C'è l'edicchio? Qualcuno ce l'ha, l'ho visto. Bravo! Dove te lo puoi portare? Se lo puoi portare? C'è convinto. Come è carino. Giralo di qua. Ma no, ma quando è bello? Trema. Se si capisce meglio quando è bello. Sì, secondo me. Sì, questo è meglio. Ok, così qualcuno... Ma cammina bello, quintaio. Prova a vedere se cammina. Però mi pare di sì. Sta mangiando... Aspetta, sta mangiando il pezzettino, guarda. Bravo! Non l'ha mai mangiato. Non l'ha mai mangiato. È massa. È perché non è abituato. Ma che cosa sarà mai? Ma quando sei brutto quando mangi? E come sei bruttino? Non è bello, ma se è bello. Sì. Ma gli è piaciuto? Gli è piaciuto. Ma secondo me... Andava meglio riuscola a lui. No, è proprio mini mini. Ma secondo me no, non arriva a decicchia. No, no, sì. E qui... Vabbè, considerando anche che è cicciotto, secondo me sì, non c'è tutto il pezzetto. Ecco, si è sdraiato. Uè, è cariccio. E qui dà l'ombra? Mettilo azzurro. Mettilo azzurro. Adesso mettiamolo azzurro. Sì, 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 di scaldo.